E' arrivato questa sera il primo mezzo per la nuova linea di tram di Padova dalla stazione a Volta Baroczio. Siamo molto contenti perché il progetto sta andando avanti, da una parte andiamo avanti con la burocrazia che serve per arrivare all'appalto dei lavori che contiamo di pubblicare la gara fra qualche mese. Nel frattempo è arrivato il primo mezzo, nei prossimi mesi arriveranno anche le altre componentistiche per questo mezzo e nel corso di quest'anno arriveranno i primi quattro mezzi per la nuova linea. Prima dell'avvio previsto per il 2023 arriveranno gli altri sette per un totale di 11. Quindi il lavoro va avanti e la nuova linea di tram a Padova diventa sempre più concreta. Secondo le previsioni è arrivato oggi il primo tram dalla Francia, il primo dei quattro ordinati che verranno consegnati a scadenza bimestrale in attesa degli ultimi risetti che andranno a completare la linea del SIR3. Nel caso in cui venissero accettati e approvati i nostri progetti dal Ministero dei Trasporti, Padova si doterà di una flotta di tram di circa almeno 60 mezzi con una rete che si estende come una linea metropolitana leggera di superficie. Grazie a tutti! Grazie a tutti!